Una tragedia familiare che scuota le festività natalizie a Gela, un episodio che lascia senza parole basiti, interdetti, poche le notizie che giungono in redazione ma quelle poche che arrivano per il nostro dovere di cronaca raccontano di una donna che per causa ancora da rilevare e da accertare ha ucciso i suoi due figli, due bambini di 10 e 7 anni. La tragedia si è consumata tra le mura domestiche in un appartamento di via Passaniti a pochi passi dal centro storico, la centralissima Piazza Umberto I. La donna è stata allontanata immediatamente dalla scena del crimine e trasportata al locale Nosocomio. Secondo alcune voci non confermate, la donna, dopo l'insano gesto compiuto ai danni dei figli, avrebbe tentato il suicidio ma sarebbe stata fermata in tempo da carabinieri e dagli uomini della vigilanza che si trovavano in zona. Nei momenti immediatamente successivi alla tragedia sul posto sono arrivati i parenti più intimi. Lo strazio e la disperazione hanno lasciato il posto alla speranza che la tragedia non fosse stata consumata. Invece adesso si cercherà di capire come si sono svolti i fatti e quale il movente per un gesto così efferato. La donna, sposata con un professionista del luogo, un ingegnere, pare, secondo le prime testimonianze, abbia tentato di uccidersi gettandosi dal balcone dello stabile di due piani. Carabinieri e polizia sono alla ricerca del marito che, sconvolto dalla tragedia familiare senza un perché, è scomparso da diversi minuti. Altre informazioni le forniremo nel corso delle prossime edizioni del telegiornale.